Ciao da Avsim! Comincia la prima di due settimane di pausa per le nazionali e questa è una gran brutta notizia. Comincia con la Juventus che è al dodicesimo, tredicesimo posto in classifica in Serie A con un solo punto e questa è un'altra gran bella notizia. E comincia con il fatto che oggi già potrebbe tornare Miralem Pjanic alla Juventus. O meglio, già non tanto perché oggi è 30 agosto quindi mancano 48 ore, anzi meno, alla fine del calciomercato, alla chiusura della finestra estiva domani 31 agosto e però sono appunto le ultime ore per gli ultimi colpi della Juventus. Quello che stiamo apprendendo in queste ore da parte davvero di tutti i giornalisti, tutti i giornali, fronte Juve per quanto riguarda il mercato della Juve è che Massimiliano Allegri vorrebbe un nuovo centrocampista e ha chiesto da tempo alla dirigenza di andare a prendergli proprio Miralem Pjanic. Allegri vuole Pjanic, non qualcun altro, non un centrocampista giovane, non un centrocampista che sia emerso in questi ultimi anni, non un centrocampista futuribile. Forse da quel punto di vista abbiamo già preso Locatelli, d'accordo, però dobbiamo anche capire chi stiamo veramente cercando. Una mezzala? Un mediano? Un regista? Un incontrista? Un trequartista? Bisogna capire qual è il ruolo che ci serve perché abbiamo preso Locatelli che doveva essere il nuovo regista di Allegri e invece in una partita senza regista con Danilo Mediano davanti alla difesa che non si sa cosa avrebbe dovuto fare contro l'Empoli Allegri lascia Danilo 90 minuti e Locatelli lo mette in campo al 65esimo proprio per fare la mezzala. Artur è infortunato, rientrerà tra non molto ma a questo punto non abbiamo nessun motivo per pensare che sia lui il regista della Juventus. Ramsey è stato il regista della Juve nel precampionato, poi come al solito si è fatto male e quindi non possiamo contare su di lui e di Fagioli neanche l'ombra, neanche a parlarne Fagioli, quello talmente forte da essere entrato nelle conferenze stampa di Allegri nel 2018, nel 2019 e nel libro di Allegri del 2019 come un campione in erba che sarebbe sicuramente sbocciato, sarebbe sicuramente esploso nella Juventus. Non è successo e non è successo con Pirlo che si è poi gloriato da solo di aver fatto esordire i giovani, in realtà non è propriamente così e non succede con Allegri che teoricamente avrebbe dovuto puntare su Fagioli, invece in questi ultimi due giorni di mercato aspettiamo anche queste notizie. Dragosin in prestito, Fagioli in prestito, Filippo Ranocchia in prestito. Fagioli e Ranocchia che tra l'altro sono stati anche nella partita con l'Empoli aggregati alla prima squadra per fare panchina, per guardare la partita dalla panchina, osservando un centrocampo che non funzionava. Come provate a spiegarvi, almeno dal mio punto di vista, il problema di funzionamento del centrocampo della Juventus però non è un problema di organico o non è solo un problema di organico, è un problema soprattutto tattico di organizzazione. Cioè questi giocatori, centrocampisti ma anche terzini ma anche attaccanti, vanno in campo senza sapere che cosa devono fare. Sembra non ci sia stata adeguata preparazione tattica da parte di Allegri negli allenamenti prima di queste partite. Per cui si va in campo a provare a fare qualcosa, ma nulla di ben definito, nulla di chiaro. Nulla di chiaro soprattutto nella testa dei giocatori, perché poi noi dagli spalti o da casa non ci capiamo nulla. Ci può anche stare, ma loro devono sapere che cosa andare a fare nel campo. E quindi ricorrere al mercato per arricchire un reparto che in questo momento è nel caos, non è detto che sia una mossa vantaggiosa, al di là di Pjanic o di Witzel, di cui vi parlo tra un attimo, e poi magari facciamo anche qualche nome alternativo, perché dobbiamo capire soprattutto che cosa ci serve. È chiaro che in questo momento alla Juve serve un regista, ma Pjanic non è un regista. È vero che ha fatto il regista, teoricamente, nella Juve, negli anni che è stato alla Juve, tranne il primo che era in una mediana 2 con Chedira, quindi era una mediana diversa. Poi da quando siamo passati alla mediana 3, al centrocampo 3, diciamo che Pjanic ha fatto, a tutti gli effetti, il centrocampista davanti alla difesa che imposta, che mette ordine, che mette pulizia. Ecco, se stiamo cercando semplicemente uno bravo con i piedi, palleggiatore, che riesca a pulire un po' questa manovra di questo centrocampo caotico, non è che dobbiamo per forza andare a cercare Pjanic, perché teoricamente abbiamo preso Locatelli. Può mettere Locatelli in prima impostazione, che ha sicuramente dei piedi buoni, che sicuramente sa impostare, lo ha fatto nel Sassuolo, anche se non è il miglior regista possibile perché non velocizza tantissimo l'azione e ha grande capacità negli inserimenti, quindi davanti alla difesa sarebbe sprecato, però teoricamente lo metti titolare e dovrebbe fare qualcosa di positivo. Ecco, invece Allegri mette Danilo, non solo titolare, ma ripeto per 90 minuti davanti alla difesa. E perché non è partito titolare Locatelli contro l'Empoli? Perché McKennie, che da Allegri prima della partita con l'Empoli era stato definito come un centrocampista offensivo, è stato messo lì solo un tempo e poi chiaramente bocciato a livello tecnico perché ha fatto una partita orribile toccando solo 15 palloni in 45 minuti e di conseguenza viene bruciato come esperimento. Queste sono le domande che ci dobbiamo fare. Cioè, McKennie è veramente un trequartista? Forse no. Locatelli, a che cosa serve? È una mezzala? Chi è il regista? Danilo? Tolto Ramsey, su cui si è puntato nel precampionato e si poteva anche puntare su fagioli titolare perché Ramsey si è rotto, ma lo si doveva immaginare che sarebbe potuto capitare e ci si sarebbe dovuti affidare forse ad un altro giocatore. Ecco, questa è la situazione, voglio dire. Poi si fischia Rabiot, si fischia Bentancur, ma sono comunque giocatori, per quanto possiamo anche giustamente criticarli, che sono stati mandati in campo a fare non si sa bene cosa. Anche due o tre ruoli, Bentancur soprattutto, Bentancur ha dovuto fare l'ala, la mezzala, il mediano e provare anche ad inserirsi in aria perché non c'era un attaccante. Guardiamole queste cose, sottolineiamole queste cose nel momento in cui si fischiano i giocatori, nel momento in cui si contesta la squadra, nel momento in cui si è insoddisfatti. Questa insoddisfazione nasce sicuramente da difetti di esecuzione dei giocatori, ma soprattutto da difetti di organizzazione, da difetti di preparazione tattica. E allora Pjanic che cosa deve tornare a fare? Alla Juventus a fare il calciante destro bravo per le punizioni, già che ora se ne è pure andato Cristiano Ronaldo e quindi c'è da battere i calci di punizione che nessuno va a conquistare, al di là che non sia stato fischiato fallo su quadrato, ma quante altre occasioni per ottenere un calcio di punizione vantaggioso abbiamo conquistato contro l'Empoli? Ecco, dobbiamo arrivarci al limite dell'area di rigore per ottenere delle punizioni. Se lì non ci giochiamo mai e se ci giochiamo male, se non riusciamo a fare due passaggi di fila, le punizioni non le otterriamo mai. Quindi non possiamo andare a prendere Pjanic per fargli battere le punizioni, davvero sarebbe ridottivo. Un Pjanic che tra l'altro verrebbe in prestito, non si sa bene con quale formula, diritto, obbligo di riscatto, con lo stipendio pagato per metà dalla Juve e per metà dal Barcellona. Questo dà l'idea, questo dà l'idea di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un giocatore che non vuole meno di nessuno, cioè non è che non lo vuole nessuno Pjanic, lo vuole meno di nessuno, perché lo vuole solo Allegri nel mondo. Perché Pjanic è in uscita dal Barcellona da mesi, da mesi, da prima che iniziasse il calciomercato, perché Koeman non l'ha mai voluto. E Pjanic in tutti questi mesi non ha trovato nessuno che lo prendesse. Sarà per le condizioni contrattuali. Però se il Barcellona è disposto a pagare, a mandarlo in prestito gratis, a pagare metà dello stipendio pur di alleggerire un po' i costi, non solo la Juve dovrebbe essere alla finestra, dovrebbe esserci qualche altra squadra. Perché non c'è nessuno? Perché Pjanic si sposta al penultimo, ultimo giorno di calciomercato? Che operazione è? È un'operazione disperata, ma più per Pjanic che per la Juventus. Perché la Juve non ha bisogno in questo momento di Pjanic. Non ne ha bisogno. Pjanic può venire e fare anche grandissime partite, ma resta il fatto che ciò che manca è l'organizzazione, l'attribuzione dei compiti, l'attribuzione dei ruoli. Pjanic che viene, e questo ve l'ho già detto più di un mese fa, perché di Pjanic alla Juve si parla da fine luglio, perché Allegri fece intendere nella sua conferenza stampa di presentazione che Pjanic sarebbe tornato, che l'avrebbe voluto, e l'ha chiesto lui, lo sta chiedendo lui, lui che dice che il mercato lo fa la società e sono in perfetta sintonia. Però qualche richiesta l'ha fatta, pare sia stata proprio questa l'unica. Miralem Pjanic, fatemi tornare Pjanic, in qualunque modo. Dicevo, già più di un mese fa, parlavo del fatto che Pjanic nella scorsa stagione, per la prima volta dopo 12 anni ha fatto 0 gol e per la prima volta in carriera ha fatto 0 assist. Per la prima volta dopo 12 anni ha giocato meno di 1500 minuti, per la precisione 1295 con 30 presenze, e poi appunto 0 gol, 0 assist. Il suo valore di mercato transfermarkt, potete anche considerarlo del tutto irrilevante, si è dimezzato, più che dimezzato, da 45 milioni quando è stato acquistato, dal Barcellona nello scambio con Artur, a 20 milioni attuali. Ed ha, tra l'altro, un prezzo, è stato pagato 60 milioni più 5 bonus, scadenza 2024, quindi quadriennale, il che significa che la quota a minusvalenza del Barcellona è 45 milioni. Ce ne frega niente, perché se ce lo mandano in prestito non sono questi i problemi. Appunto, con lo stipendio dimezzato, proprio strategia della disperazione, tra l'altro parliamo di un giocatore che ha compiuto quest'anno 31 anni, il 2 aprile, e che comunque, al di là di 31 anni, che non sono tantissimi, è un giocatore lento, è un giocatore che ha già dimostrato negli ultimi anni alla Juve, almeno nell'ultimo anno, di non essere più in grado di reggere determinati ritmi, di fare determinati ritmi. Poi, che alla Juve abbia fatto sempre almeno 8 assist stagionali, un anno addirittura 14, più i gol, in particolare su punizione, sono dati oggettivi, ma riguardano il passato, riguardano il passato. Andare a prendere Pjanic con un solo punto in classifica dopo due partite agli ultimi due giorni di calcio mercato, è una disperazione totale per noi tifosi, ma innanzitutto per i dirigenti che stanno operando in questo modo. Anche perché, se l'alternativa è Witzel, peggio che andare di notte, già vi ho parlato di Witzel, 12 gennaio 89, quindi 32 anni. La scorsa stagione, poiché si è fermato a gennaio per una lacerazione al tendine d'Achille, solo 22 presenze con un gol e 0 assist ed è stato infortunato 155 giorni saltando ben 27 partite. Un Witzel che è stato anche un ottimo giocatore, è anche un ottimo giocatore per certe caratteristiche, ha collezionato in carriera 582 presenze ufficiali con 89 gol e 48 assist. Però va detto che limitando questo score alle competizioni valide, cioè ci metto anche la Liga NOSCHE che ormai è tra i top 5 campionati europei, ci metto naturalmente la Champions League, ci metto naturalmente appunto la Bundesliga in particolare, quindi le competizioni top perché poi Witzel ha giocato anche in Russia, ha giocato anche in Cina, possiamo anche mettere un po' da parte con le competizioni lì. La carriera di Witzel è quella di un giocatore che ha fatto 204 presenze e in queste 204 i gol sono stati solo 20 e gli assist sono 16. Quindi, perché sennò uno dice 89 gol, 48 assist, questo qui è forte, sempre per il passato, ed è sempre stato integro, però adesso si è lacerato il tendine d'Achille ed è un infortunio che può essere anche che ti termina la carriera molto debilitante. Non è assolutamente detto che Witzel torni ai ritmi precedenti che non sono neanche mai stati molto alti perché non è un giocatore sicuramente agile e sicuramente rapido. E che cosa stiamo vedendo nel centrocampo della Juventus? Tornando al discorso di chi ci serve. Stiamo vedendo che non c'è ordine ma non c'è neanche ritmo. Avete notato quando a un certo punto nel primo tempo Di Bala ha ricevuto un pallone verticale di Bonucci verso la metà campo che era un pallone un po' sporco non è riuscito tanto a stopparlo ha subito il contrasto di un paio di avversari dell'Empoli ha perso palla e lì poi il pallone è arrivato a Cutrone nessuno si è mosso verso Di Bala per dettagli il passaggio nessuno si è avvicinato a Cutrone per evitare che andassi a calciare e nessuno si è opposto al tiro fortunatamente Cutrone l'ha tirata alta se no sarebbe stato 2-0 tutti fermi tutti fermi allora questo è un problema di disorganizzazione è un problema di scarsa attribuzione di cattiva attribuzione di compiti di errata attribuzione di compiti è un problema che serve anche qualcuno che faccia filtro lì a centrocampo e allora ripeto il centrocampo potrebbe anche essere scarso dal punto di vista della qualità individuale ma in questo momento è soprattutto disorganizzato che cosa cambia nel centrocampo della Juventus che ha pareggiato a Udine e ha perso in casa con l'Empoli se aggiungi Pjanic se aggiungi Witzel sinceramente cambia pochissimo o forse nulla o forse andiamo anche a peggiorare senza contare il discorso Liste l'uscita di Ronaldo con l'ingresso di Ken ti toglie un esubero sostanzialmente perché Ken è CTP per cui resti con due esuberi ora dovrebbe andar via anche Pellegrini resti con un esubero la Juve vorrebbe prendere Pjanic a patto di cedere qualcuno Ramsey su cui si sta facendo un po' di pressione per farlo andare via McKennie che però per Allegri doveva restare doveva fare 10 gol a quel punto resti con 0 esuberi viene Pjanic resti con un esubero soltanto perché comunque se ne togli in questo momento due poi chiunque viene è fuori lista UEFA e quindi ti organizzi togli qualcuno insomma ci riesci a mettere i centrocampisti magari all'inizio togli Artur quindi riesci a rientrare nel discorso ma appunto è un incastro difficile anche per esempio per Witzel perché il Borussia Dortmund lo vuole cedere solo a patto di trovare un sostituto e pare che non l'abbiano trovato e non lo troveranno quindi tutte queste incertezze ma soprattutto tutta questa frenesia termine usato da Allegri per definire la prestazione dei suoi giocatori contro l'Empoli per arrivare a prendere un centrocampista che non ha futuro che non ha neanche presente tutto sommato come Pjanic come Witzel e significa veramente aver perso tempo per mesi perché il mercato quest'anno non è stato come l'anno scorso non abbiamo iniziato la stagione ad agosto c'è stato tempo per fare determinati movimenti è chiaro che non c'erano soldi Ronaldo ha impiegato anche tante risorse per poi andarsene all'improvviso queste sono cose giustissime però non è solo una questione di soldi è una questione di visione di programmazione perché ci sono tante alternative ecco non hai i soldi cavolo ma perché non può giocare fagioli titolare qual è il problema o con titolare cioè lo facciamo emergere piano piano ecco parliamo di Chuameni vogliamo parlare di Chuameni Chuameni ha già quasi 70 presenze in Ligan ed è coetaneo di fagioli è del 2000 perché Chuameni ha quasi 70 presenze in Ligan e fagioli se le sogna forse non ce n'è neanche a livello professionistico compresa la serie C perché fagioli è più scarso perché se fagioli fosse stato forte avrebbe giocato no non funziona così non funziona così è che in Italia e alla Juventus i giovani li stronchiamo li facciamo andare in serie B a farsi le ossa quando poi hanno 23-24 anni tornano e c'è il tifoso che dice vabbè ma che hanno dimostrato perché devono giocare loro mi tengo Chedira mi tengo Matuidi mi riprendo Pjanic e così andiamo avanti no torniamo indietro cioè dovremmo andare avanti ma nell'andare avanti torniamo indietro e ci troviamo con un punto contro Udinese e Empoli ci sarà un motivo se abbiamo un punto contro Udinese e Empoli sarà anche colpa di questa scarsa programmazione perché non si è puntato su fagioli dall'inizio Ranocchi ha fatto un bellissimo precampionato non credo che potesse giocare peggio di Rabiot e Bentancur in quel centrocampo cioè voglio dire e adesso sono soluzioni a costo zero visto che si dice che non ci sono soldi si sta parlando di Chouamini non ho mai creduto che Chouamini potesse venire alla Juventus vediamo magari in queste ultime due giornate di mercato siamo sorpresi in positivo arriva lui dal Monaco fantastico sarebbe veramente un ottimo acquisto poi vediamo a quali condizioni ma va bene qualunque se la Juve decide di spendere soldi io sono sempre contento non metto a dire no abbiamo speso troppo sì poi analizzo l'operazione ma non è che dico attenzione non spendete perché i soldi sono miei se si spende bene soprattutto va benissimo speriamo ma ci credo veramente poco se Allegri vuole Piani cioè perché dovrebbe volere Chouamini e comunque non ha senso perché se vai a prendere Chouamini metti fagioli non compri Chouamini metti fagioli che è diverso sarà anche meno forte ma è coetaneo e quindi a livello di programmazione di progettualità siamo sullo stesso livello e fagioli e CTP costo zero giocatore teoricamente pronto che conosce anche l'ambiente conosce tutta la situazione e quindi sarebbe la scelta ideale ma non si sta andando in quella direzione invece di prendere giocatori del 2000 e farli giocare perché siamo nel 2021 quindi questi qui non sono neanche più giovanissimi ma sono semplicemente adulti giocatori adulti si vanno a prendere giocatori del 1990 come Pjanic grazie per l'attenzione speriamo davvero di non peggiorare la situazione a livello di tristezza anche per quanto riguarda noi tifosi che vediamo la classifica e vediamo il mercato ditemi come la pensate però nei commenti sempre nel rispetto delle opinioni di tutti su Pjanic, Witzel l'opzione fagioli Chouamini e questa chiusura di calcio mercato like al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi video abbonatevi per tanti vantaggi speciali ci vediamo molto presto e sempre forza Juve